Miss Cimadolmo Beatrice Baldan, 16 anni di Deola Padova. Una fascia che vale molto, quella conquistata dalla giovanissima Beatrice Baldan durante le selezioni di Miss Antenna 3. A Cimadolmo la bella padovana ha conquistato il titolo più prestigioso che le spalanca le porte della finale del concorso. La reginetta che sarà incoronata a Miss Antenna 3 2015 potrà accedere direttamente alle pre-finali nazionali di Miss Mondo Italia 2016. Ad assistere alla serata organizzata nell'ambito della festa dell'Asparago Bianco di Cimadolmo, oltre mille persone che hanno assistito con attenzione alla sfilata delle aspiranti Miss, come da copioni in passerella, prima in eleganti abiti da sera, poi con coloratissimi bichini. Un'occasione non solo per ammirare la disinvoltura delle 20 ragazzi in gara, ma anche per conoscerle meglio, per apprezzare, oltre alla bellezza, anche la loro simpatia. Alla fine il verdetto dell'attenta giuria che ha pregnato Beatrice Baldan. Ma la sua non è stata l'unica fascia assegnata, altri nove titoli infatti sono andati ad altre tante ragazze. Miss Antenna 3 però non si ferma qui, le selezioni continuano in tutto il Veneto. Le ragazze che volessero partecipare alle prossime tappe possono compilare il modulo pubblicato sul sito di Antenna 3.